Bello a tutti, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi ragazzi sono qui con un video molto diverso dal solito perché ho voglia di parlarvi un pochino tranquillamente senza troppi tagli, senza fare chissà che cosa, chissà che editing perché è veramente tantissimo che non parlo con voi a cuore aperto, tra virgolette su ciò che mi sta accadendo nell'ultimo periodo e su ciò che è accaduto fino adesso, nell'ultimo anno perché questo è stato un anno pieno, 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 pieno fino adesso è stato uno degli anni più belli della mia vita sono davvero contento sia lato YouTube che lato vita privata sono davvero felice ma partiamo dall'inizio allora, perché sto facendo questo video? perché ci ho pensato, molte persone mi hanno fatto notare che io fino a un po' di tempo fa ero degli YouTuber con più attaccamento verso i propri iscritti ero un ragazzo che rispondeva a tutti i commenti anche se ce n'erano due, trecento rispondevo sempre a tutti i commenti ragazzi, se vi ricordate, questo fino a un anno e mezzo fa ho sempre creato molto legame con voi, con i gruppi con Instagram, rispondevo sempre ho sempre cercato di legarvi a me in qualsiasi occasione questo nell'ultimo periodo non sta più succedendo perché mi sono reso conto che siete in tanti siete davvero in tanti e non riesco a stare dietro a tutti oggi per dire una mia page adesso non per fare favoritismi quindi non farò nomi perché sennò poi mi vengono a dire le persone ma stai premiando una persona rispetto a me che è un'altra page quindi no vi dico semplicemente che ha compiuto un anno e mi sono reso conto che guardando i post e gli edit a tutti i post che mi ha fatto nell'ultimo anno non ho messo like a tutti e mi sono sentito un pochino male per il semplice fatto che credo che tutto il lavoro che lui ci metta nel fare quello che fa è anche per me e io non ricambio con il like per dire questa cosa mi sta facendo un pochino stare male nell'ultimo periodo perché ho riflettuto tanto su quello che ho fatto e su quello che sto facendo e sono arrivato alla conclusione che devo tornare un pochino a seguirvi di più ok? stare più vicino a voi dirvi tante cose raccontarvi un po' come va la vita fare magari un vlog a settimana dove vi parlo un pochino di ciò che mi passa per la testa è una cosa che non ho mai fatto o comunque che facevo ai tempi il sabato se vi ricordate ma che non sto più facendo ultimamente vedo sempre i video e guardo e non fa visual e mi deprimo forse non dovrei pensare a quello ma dovrei ripartire da adesso come se fosse un punto di inizio e ripartire da adesso con ciò che mi piace fare non è che non mi piace più fare Minecraft assolutamente perché se no non so se mi conoscete ma non lo farei se non mi piacesse però diciamo che molte persone mi hanno fatto capire che anche un video nel quale vi parlo a cuore aperto come questo può essere una cosa importante anche per riallacciare il rapporto tra di noi non so se sto facendo un discorso continuo se sto facendo errori scusatemi in tal caso però comunque sono contento anche di parlarvi di un po' di cose poi niente ragazzi quest'anno ho conosciuto Ali che è la mia ragazza l'ho conosciuta ad iniziare in realtà a fine dell'anno scorso e lei è sempre stata presente nelle ultime live per arrivare ai 200.000 per tutto quello che è accaduto nell'ultimo nell'ultimo periodo e tutto poi il 29 di di giugno ci siamo messi assieme forse è stato il giorno più bello della mia vita perché è stato il giorno più bello non c'è tanto da spiegare ragazzi quando ti leghi a una persona che ami veramente è così io spero che tutte le persone che possano seguirmi possano riuscire a legarsi ad una persona come lo sto facendo io perché per me Ali è veramente importante per tutto quello che fa per tutto quello che mi dimostra e per il fatto che su tutte le mie scelte mi aiuta sempre mi aiuta a non fare cazzate mi aiuta a evitare dei casini come è successo poco tempo fa adesso non vi voglio dire il perché però avevo fatto una cazzata mi ha detto non farlo perché se ci pensi così io ci ho riflettuto l'ho fatta lo stesso a questa cosa poi l'ho tolta a questa cosa non vi voglio dire che cosa ovviamente però ci ho pensato e effettivamente mi ha ragione tante volte bisogna ragionarci subito sulle cose e comunque diciamo che da giugno ad ora sono ancora più felice perché fa parte della mia vita la sto portando insieme nel mio percorso sto cercando di farvela conoscere un pochino meglio perché vorrei fare un sacco di video con lei vorrei trovare un giorno a settimana e far sempre video con lei e e niente io sono sono davvero felice per questo non non mi dilungo troppo perché sennò poi mi emoziono io sono un ragazzo molto emotivo e boh non mi va di emozionarmi così comunque niente ti amo Alice stai guardando sto video ad ogni modo continuando tutto quello che sta succedendo nell'ultimo periodo sono successe tante cose ma tantissime cose come la conclusione della Pixelmon se avete notato ne abbiamo continuata un'altra abbiamo iniziato un'altra se avete notato io la Pixelmon Ultra a metà agosto l'ho quasi chiusa ok e l'ho chiusa per il semplice motivo che non mi piaceva più portarla cioè l'ho portata alla fine alla fine l'ho portata per darvi un finale alla serie perché so che molta gente la seguiva voleva sapere come andava a finire e ho cercato di portarvi un finale anche se il finale del Piplup non c'è ma lo scoprirete in questa stagione ho cercato di portarvi questo finale peraltro ragazzi nell'ultimo periodo sto portando tanti video se avete notato due video al giorno anche se il primo video la maggior parte delle volte non va bene ok se carico come vi do alle 15 la maggior parte delle volte non va bene e sinceramente non so se è una cosa buona o una cosa cattiva continuare a fare dei video al giorno anche se molti di voi mi li chiedete però notare la differenza di un video tipo delle 20 che va in un modo e il video delle 15 barra 16 barra 18 va in un altro mi rattrestisce e non poco ecco mettiamola così ad ogni modo niente ragazzi questo è tutto quello che mi sta succedendo ora vi vorrei far vedere due cose che mi sono state regalate nelle ultime fiere ecco la prima cosa che voglio farvi vedere è questo paio di calze che sono fighissime che me le ha fatte Letizia e me le ha date a Brescia tipo sono le cose più cute del mondo perché io uso un sacco queste calze fatte strane con le ciambelle mi piace un sacco e niente grazie mi piacciono davvero tantissimo poi voglio far vedere questi due regalini questo me l'ha fatto Celle cioè in realtà me l'ha regalato Celle sempre a Brescia e questi due non mi ricordo Nox ma me l'ha regalato Ender Nox sempre a Brescia non ho tutti i regali sotto mano perché me ne avete dato davvero tanti ho trovato questa busta che però volevo farvi vedere che è appunto quella di Luca mi avete fatto dei regali tipo stupendi per dire guardate un po' cosa mi hanno fatto guardate questi regali purtroppo c'è la luce guardate che belli ragazzi ho questi qui sotto mano ne ho un sacco ne ho un sacco dietro adesso li volevo far passare un pochino tutti questo l'ha fatto il penneco di Diamark guardate che figli ci sono un sacco di cose che range tutto ci sono un sacco di lettere che mi avete regalato e pensandoci raga a parte che c'è anche una turbo qua pensandoci ultimamente non stavo più facendo il video dei regali ed è una cosa che forse mi manca un sacco e probabilmente tornerò a farle quindi qualsiasi fiera faremo probabilmente vi farò il video dei regali guarda anche Waiso Sara che cosa mi ha fatto queste cose super cute cioè adesso non ve le faccio vedere tutte ma sono davvero bellissime queste ce le ha fatte Giulia guardate che belli sono veramente bellissimi guardate sono tipo regalini questo è con alie è stupendo pure questo vabbè ce ne sono davvero un sacco non ve li faccio passare tutti comunque niente sono tutti dei regali fantastici non è un video dei regali questo ve li volevo far passare un pochino a caso perché vi voglio far vedere che i regali li ho tutti non li perdo mai e Ali può confermare perché l'altra volta abbiamo sistemato regali vecchissimi che ho voluto assolutamente tenere e questo per me vale tantissimo quindi niente ragazzi vi spoiler adesso per chi è arrivato a fine video che probabilmente sabato farò un piccolo raduno a Milano e per chi volesse venire mi segua su Telegram perché su Telegram vi darò delle news il link lo trovate in descrizione ora vi saluto e spero che questo piccolo video vi sia piaciuto da Marcia è tutto bella grazie a tutti